Il primo dicembre ricorre la giornata mondiale contro HIV e AIDS. Una patologia che nell'ultimo trentennio ha vissuto di passi avanti imponenti nella ricerca e nella cura farmacologica e che al contempo vive sotto una cappa di silenzio pericolosa. Silenzio che vuole abbattere il progetto oltre l'indifferenza portato avanti da Casa Moscati, CEIS e Centro per il Volontariato che per questo weekend si declinerà nell'iniziativa espulso dal campo della salute. Iniziativa che vedrà le principali squadre sportive pesaresi, WL, VIS, Megabox e Italservice, fare da cassa da risonanza verso la sensibilizzazione ai comportamenti corretti, alla prevenzione attraverso il test sierologico all'importanza fondamentale della diagnosi precoce. Oltre l'indifferenza è un progetto che entra nelle scuole superiori ma tutti, giovani e adulti, abbiamo il diritto e il dovere di informarci sull'HIV, sull'AIDS e probabilmente mai come il mondo dello sport questo messaggio è arrivato forte quest'anno proprio perché nello sport c'è la vitalità, c'è la voglia di vivere e quindi è anche diciamo c'è proprio questo raccordo del lavoro di squadra che tutti dobbiamo fare insieme nei confronti di una malattia che tutti ci può colpire. È molto importante fare la prevenzione nella popolazione generale, è molto importante fare la prevenzione nelle scuole e spiegare bene quali sono i comportamenti in cui il soggetto rischia di acquisire questa infezione. Due i concetti basilari, prevenzione e informazione. Quella verso una malattia che non è guaribile ma che è curabile con un adeguato trattamento farmacologico che con i progressi attuali consente un'aspettativa di vita non troppo difforme da quella di una persona sieronegativa. Progressi nella malattia che però non giustificano una mancata prevenzione e una mancata informazione su rischi di trasmissibilità del virus che si azzera nei casi in cui la carica virale è stabilmente non rilevabile. Il soggetto che ha un'infezione acquisita è un trattamento che dura per tutta la vita, è un trattamento che ha rivoluzionato in qualche modo la patologia stessa in quanto molte sono le molecole che noi abbiamo a disposizione e che utilizziamo in varie combinazioni e che permettono la non rilevabilità del virus nel sangue periferico. Significa che il soggetto essenzialmente non ha più un virus rilevabile e questo significa che anche il soggetto non rilevabile è un soggetto che non trasmette l'infezione. Questo è anche un concetto fondamentale per allontanare lo stigma della sieropositività. Il soggetto che esegue una terapia antiretrovirale corretta e che quindi ha una viremia soppressa è un soggetto che non ha la possibilità di trasferire l'infezione al partner o alla partner. A Pesaro da oltre 30 anni Casa Moscati è il riferimento per accoglienza e reinserimento delle persone sieropositive. Le accogliamo nelle nostre strutture e loro con noi decidono di fare un percorso dove non ci si arrende né alla malattia né ai disagi della vita e si cerca di riprendere una vita normale, possibilmente in autonomia. Dove non è possibile si vive insieme come in ogni famiglia e si affrontano le difficoltà di ogni giorno. Da Casa Moscati si spera sempre di uscire dopo un breve passaggio per poter entrare in uno degli alloggi protetti e poi da lì rientrare in una vita privata nel mondo sociale.